Oria è in festa in questi giorni perché siamo nella settimana medievale. Ha il cuore di ognuno di noi e tinto ognuno del suo colore di appartenenza al Rione. I colori San Basilio sono giallo-nero con lo sfondo di una croce greca. I colori del Rione Giudea sono bianco e celesti. Sopra sulla bandiera c'è il disegno di un candeliere ebreo. I colori del Rione Lama sono il giallo e verde, sono dei colori luminosissimi, bellissimi. I rioni del Rione Castello sono rosso e blu e lo steam è una torre sormontata da una corona sul campo blu. Secondo me la sfida tra noi e il Rione Lama comunque abbiamo tantissime possibilità di vincere. Vinca il migliore perché a noi interessa la riuscita della manifestazione. Certo se vincerà il Rione Castello sarò intimamente contento. Il Rione Lama vincerà il Paglio 2023 ovviamente. Il Paglio 2023 verrà vinto dal Rione Giudea. Siamo due o tre giorni che siamo qui e ci stiamo avventurando anche nel cibo. La focaccia, l'ho mangiato, il polipo fritto. Orecchiette. Pesce. Taralli in potto. Poi carne di cavallo. Cavatielli ai fitti di mare. We are in Puglia. We are in Puglia. A presto. A presto. A presto. Amor. Ja. Grazie a tutti.